Ti sei mai chiesto a che diamo e ne servono tutte le directory che trovi in un file system Linux? In questo video esploreremo i contenuti e le funzioni delle principali directory di un sistema Linux. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux e di programmazione. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Allora, sebbene esiste uno standard chiamato File System Hierarchy Standard, abbreviato FHS, che specifica una certa struttura per il file system, le vere distribuzioni Linux non seguono questo standard al 100%, per cui potresti trovare nella tua distribuzione qualche leggera differenza rispetto a quanto ti mostro in questo video. Usiamo il nostro bel file manager R&R, che proprio in questi giorni ho pacchettizzato sull'Arch User Repository con il nome di R&R.tnfm. Quindi se usi Arcio Mangiaro cosa aspetti a installarlo? Spostiamoci sulla directory principale, che giusto per confonderci le idee, normalmente viene chiamata root directory. La confusione è data dal fatto che vedi che esiste una directory chiamata root, quella è la home directory dell'utente root, ci torneremo quando parleremo della directory home. Iniziamo dalla directory bin, che come vedi è un simlink a user bin. Questa directory originariamente conteneva la shell più quei pochissimi programmi indispensabili per l'avvio del sistema. Tutti gli altri programmi e applicazioni invece andavano nella directory user bin. Il ragionamento dietro questa distinzione era che la directory user poteva trovarsi su una partizione o su un hard disk differente da quello che contiene il file system principale. E quindi c'era bisogno di un minimo di sistema funzionante per poter montare la directory user durante il boot. Oggi, vista la complessità dei sistemi, questo non è più possibile. Quindi tutta la gerarchia user oggi è o contenuta nella partizione o nel volume logico, se vogliamo essere pedanti, del file system principale, oppure viene montata nella fase inter-rd del boot. Quindi, per semplificare le cose, le principali distribuzioni hanno scelto di unificare le directory bin e user bin, mantenendo bin come simlink agli user bin per compatibilità. Basta solo pensare a quanti scripti ci sono in giro che si aspettano di trovare bash nella directory bin, praticamente tutti. Se vuoi approfondire le ragioni storiche per cui esisteva la distinzione tra bin e user bin, in descrizione ho linkato una mail di Rob Landley che spiega nel dettaglio il tutto. Andiamo ora nella directory boot. Qui troviamo il kernel di Linux e la configurazione del bootloader. Nella directory boot.efi troviamo la efisystempartition, che contiene il bootloader vero e proprio. La directory CD-ROM è un relitto del passato, quando non era ancora standardizzato su quella directory se sarebbe dovuto montare il CD-ROM. Su molte distribuzioni questa directory non esiste più, e al suo posto viene usata la directory media CD-ROM come giusto che sia. La directory dev è interessante, perché qui iniziamo a vedere un concetto fondamentale della filosofia di Linux. Sotto Linux tutto è un file. In questa directory troviamo i file di device, cioè tutto l'hardware del computer, ogni singola periferica, esposti come file. Possiamo trovare per esempio l'hard disk SDA, con le sue relative partizioni SDA1, SDA2, eccetera. Possiamo trovare il mouse. Ma possiamo anche trovare dei file fittizi che ci possono essere utili in diverse occasioni, tra cui segnalo Random e Urandom, che se letti restituiscono valori casuali e sono usati per esempio per generare chiave criptografiche. Null, che è un file che scarta tutto ciò che gli scrivi ed è spesso usato per silenziare l'output dei programmi. Zero, che è un file che se lo leggi ti ritorni nel valore binario 0, ed è usato per esempio se hai bisogno di creare un file di una certa dimensione, scrivi il contenuto di dev0 su un file per il numero di byte equivalente alla dimensione desiderata del file. Passiamo ora alla directory etc, che contiene i file di configurazione globali di ogni programma che hanno effetto per tutti gli utenti. Il file più interessante qui è fstab, che contiene i vari file system da montare automaticamente all'avvio del sistema. Giusto per curiosità, ti dico che il file passwd contiene informazioni sugli utenti del sistema, il file shadow contiene le password criptate di ogni utente, mentre il file group contiene informazioni sui gruppi e quali utenti sono membri di quale gruppo. La directory home è quella a disposizione di ogni utente. In questo caso esiste un solo utente chiamato free, ma in un sistema multiutente ogni utente avrebbe una sua sotto directory di home. Nella tua home metti i tuoi documenti, i tuoi file, insomma è la directory nella quale dove lavori normalmente quando usi il computer. Se andiamo a mostrare i file nascosti, possiamo trovare i file di configurazione dei vari programmi installati. A differenza dalla directory etc, i file di configurazione che trovi nella tua home sono personalizzazioni e preferenze personali, che variano da utente a utente in un sistema multiutente. Sebbene esista uno standard chiamato XDG Based Directory Specification, che dice che tutti i file di configurazione vanno nella directory .config, questo standard è relativamente recente. Quindi ci sono ancora delle applicazioni che invece che mettere i loro file di configurazione in .config, li mettono come file nascosti direttamente nella tua home. Per esempio puoi vedere il file .bashrc che è utilizzato dalla shell bash. Poi c'è la directory .local, che ha la stessa struttura delle directory user-user-local che vedremo tra poco, e contiene i dati dei programmi installati come utente. Le directory lib, lib32, lib64 e libx32 sono dei simlink alle loro relative directory sotto user per le stesse ragioni che avevamo visto per la directory bin. Queste directory contengono le librerie usate per le varie applicazioni. Possiamo dire che queste directory contengono l'equivalente Linux delle DLL di Windows. Nella directory lost più found, qualora un controllo di integrità abbia riscontrato degli errori nel file system, mette lì dentro il file che ha tentato di recuperare. Media contiene i mount point delle periferiche esterne, tipo cd-rom, chiavette usb e in questo caso anche partizioni di Windows. MNT è usato come mount point temporaneo qualora ne avessi bisogno. OPT è usato per software di terze parti, anche se sono in pochi se non qualche raro software proprietario da usare questa directory. La directory proc non contiene file veri e propri, ma visto che sotto Linux tutto è un file, i file contenuti in questa directory servono per dare delle informazioni riguardo ai processi, cioè ai programmi che sono attualmente in esecuzione. E, scrivendo alcuni file in questa directory, possiamo andare a modificare qualche parametro del kernel. Giusto per curiosità ti dico che il file cpu-info ti dà informazioni sul processore che stai utilizzando. La directory root è la home dell'utente root. Non si trova sotto home per permettere all'utente root di poter usare il sistema, anche qualora la directory home fosse su una partizione o su un hard disk separato e non sia montata. La directory run contiene i dati di runtime delle applicazioni. Per esempio qui troviamo le socket Unix che i vari programmi utilizzano per parlarsi tra di loro. La directory spin è un simulink a user spin per le stesse ragioni che avevamo visto per la directory bin. In questa directory sono contenuti i programmi usati da root per l'amministrazione del sistema. Visto che la linea di confine tra il programma di amministrazione e il programma normale può essere molto sottile, alcune distribuzioni tipo arch tagliano la testa al toro e mettono tutti i programmi in user bin. E poi le directory bin, spin e users bin diventano dei simulink a user bin. Mi domando come mai non facciano così tutte le distribuzioni. Snap è il mount point dei pacchetti snap qualora tu ne abbia. Cosa alquanto difficile se non uso Ubuntu. SRV, secondo lo standard, dovrebbe contenere i dati dei vari server, tipo le pagine web servite dal server web oppure i database dal server database. Stando alla mia esperienza, però, questa directory non viene utilizzata affatto e i dati dei server vengono messi invece in una sottodirectory di var. La directory sys è sorella della directory proc, nel senso che anche questa non contiene file veri e propri, ma i file contenuti in essa sono delle informazioni che i vari driver del kernel danno alle applicazioni user space riguardo alle varie periferiche collegate al sistema. La directory TMP contiene file temporanei e la sua caratteristica è che questa directory è scrivibile da tutti gli utenti. La directory user contiene le varie applicazioni e i vari programmi installati nel sistema ed è strutturata di modo che volendo può risiedere in una partizione o in un hard disk separato e può essere montata in sola lettura. User bin, come dicevamo, contiene tutti gli eseguibili e tutti i programmi. User games in teoria dovrebbe contenere degli eseguibili dei giochi, ma di fatto ho sempre visto che gli eseguibili dei giochi rischiano in user bin. User include contiene tutti i file header per poter compilare programmi in COC++. User lib, lib32, lib64 e libx32, avevamo visto prima, contengono le librerie usate dai programmi e le directory sono divise per architettura, 32 o 64 bit. User lib exec contiene degli eseguibili usati da altri programmi, ma che non sono stati pensati per essere avviati direttamente. Se andiamo a vedere user local, ha la stessa struttura di user e se compili un software da sorgente anziché installarlo col package manager della tua distribuzione, questo verrà installato in user local. User spin, avevamo già visto, che contiene i programmi per l'amministrazione del sistema. User share contiene i dati immutabili delle varie applicazioni. Dico immutabili perché ricordo che user può essere montato in sola lettura. Della user share sono degni di una nota. User share doc, che contiene la documentazione dei vari programmi installati, ad eccezione delle loro manpage. User share fonts, che contiene i vari fonti installati nel sistema. E user share man, che contiene le manpage dei vari programmi installati. User src, contiene i sorgenti del sistema. Come vedi in questo caso, contiene i header del carnel di Linux. Vediamo ora la directory var. Se la directory user era pensata per essere montata in sola lettura, la directory var invece è pensata per essere montata in lettura e scrittura. E come vedi contiene backup, cache, log di sistema, email, nel caso in cui abbiamo un server email installato. Non confondiamo questa directory con le email che leggi dal tuo cliente di posta, che quelle invece le trovi da qualche parte nella tua home. Come dicevo prima, anche se esiste la directory srv, di fatto ho sempre visto che se installi un server, che sia un server web, un server email, un database, i dati dei server li ho sempre trovati in una sotto directory di var. Infine, questo swap file viene utilizzato come memoria virtuale, per liberare memoria RAM nel caso la stessi occupando troppo. Molti sistemi, al posto dello swap file, hanno una partizione di swap dedicata. Altri invece usano zram, che utilizza una zona di RAM in cui tutto il contenuto è compresso. Spero che questo video ti sia stato utile. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Library. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Quindi, per semplificare le cose, le principali idee... Che cazzo sto dicendo?